Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, io sono Blink46, scusatemi se negli ultimi due giorni non sono usciti i video però sono stato un po' incasinato nel prendere un paio di cose, andare a fare un giro, staccare un attimo e godermi un po' la casa quindi, oggi facciamo qualcosa di concreto e qualcosa che penso vi piacerà Prima di iniziare il video però ci tengo a farvi vedere una cosa mi è arrivato finalmente internet, non siamo più a scrocco vi faccio vedere ancora il casino che c'è qui perché è un disastro totale ma perché sto facendo dei test poi farò magari un video dedicato dove andrò a sistemare tutti i vari cavi per collegare i led dietro, collegare un po' tutto allora vi faccio vedere qui i mostri che ci sono allora questo, partiamo da questa sinistra che è il router che c'era prima che utilizzavo per scroccare la connessione questo è il modem che mi ha mandato Fastweb che è un modem WDSL wireless AC teoricamente dovrebbe avere porte gigabit USB eccetera e questo è il modem che mi è stato inviato da Netgear che è la C2600X4S un modem che ha una copertura wifi teoricamente assurda devo ancora fare tutti i test ma vi porterò un video dedicato solo su questo e poi come imposterò tutta la rete per adesso comunque li sto provando tutti quanti e adesso vi faccio vedere un attimo allora appena mi è stato attivato internet avevo 50 in down e 20 in up adesso si è un po' stabilizzata, è salita e dovremo avere circa 70 più o meno in download e un po' più di 20 in upload vediamo il test del ping siamo in wifi ve lo ricordo intanto sì, 60, 70, 72 ok, 72 più o meno e in upload adesso è un po' rincoglionita dovrebbe salire ancora un po' siamo a 23 in up, quasi 24 ogni tanto va a 25, 26 dipende da ovviamente il test come ping 9 non male, non male adesso sono attaccato con questo wireless farò tutti i vari test in giro per la casa partendo sia dal wifi di questo di questo, di questo sia di trasferimento che di connessione quindi sarà qualcosa di probabilmente interessante vi faccio vedere un'altra cosa che mi è arrivata tra virgolette che è questo che è uno dei nuovi portatili di MSI con Caby Lake 1070 eccetera però vi porterò un video dedicato perché è qualcosa di un po' particolare adesso direi che dovremmo prendere questo pc e portarlo di sopra finalmente perché sono andato all'IKEA ho preso un paio di scrivanie e adesso possiamo iniziare a lavorare di sopra troppo la luce dentro questa stanza è abbastanza pessima per ora perché c'è solo quella lucetta là sopra per quanto riguarda di sopra come potete vedere ho impostato un attimo come sarà la scrivania ho preso un altro piano e per adesso è solo appoggiato quindi è tutto molto instabile e andrò a mettere delle zampe in mezzo ovviamente per sostenere ho messo l'Alex senza cassetti a sinistra l'Alex con i cassetti a destra e verrà un complessivo di quasi 3 metri per questo lato e invece di 2 metri e 46 per questo direi che lo spazio sarà più che abbondante poi qua dietro andrò a posizionare tutti i vari pannelli fanno sovventi e ho intenzione di mettere il tra virgolette super pc qua nell'angolo per adesso in modo che stia proprio in modo che faccia proprio ad angolo oltre al bordello più totale che c'è qua dietro perché ho tutto qua sopra ho preso anche un'altra schivania che è quella che utilizzerò per la test bench che è da 150 per 75 e qui andrò a fare tutti dei lavori prove eccetera ok allora adesso abbiamo appena finito di fissare tutta la schivania come potete vedere staccarla dal muro è enorme cavolo è veramente enorme e da muovere tutto insieme è assurda qua dentro c'è ancora un bel po' di riverbo in ogni caso adesso andiamo a montare le prime cose importanti direi di portare su il super pc che lo metteremo là in angolo intanto e poi andiamo a collegare tutte le cose principali le cose veramente importanti ovvero i led questa è un'impresa abbastanza epica perché non ho minimamente spazio per passare allora devo andare a mettere la striscia a led so che mi sentirete un po' lontano ma non importa tutta attorno alla scrivania perché ovviamente non può essere una mia postazione o qualcosa senza i vari led RGB ovunque e partirò dal lato estremo della scrivania allora da qua più o meno sì e cercherò di andare avanti il più possibile è veramente stretto qua dietro ok giusto giusto manca veramente pochissimo cioè mancano mancheranno più o meno 20 centimetri non di più quindi questa parte qua sarà un po' meno illuminata per andare a illuminarla adesso però vediamo attacco questa intanto andrò a utilizzare il pc qui dovrei avere il connettore sì dovrei poterlo collegare vediamo se così va no o sì vediamo allora ancora niente yes yes che figata quanto mi piace quanto mi piace fammelo vedere fammelo vedere l'altra camera abbiamo tutta la scrivania illuminata ci sta fighissimo in più dopo imposterò questa in RGB in modo che tutta la scrivania continuerà con l'RGB ci sta tantissimo è una figata è una figata incredibile poi questo lo metterò in piedi ad angolo come vi avevo detto sono senza fiato però va bene per questo video è tutto vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto un commento per consigliare qualcosa probabilmente andrò a mettere un'altra zampa qua sotto poi vediamo intanto arrivano messaggi perché questa sera forse si fa festa no vabbè poi vediamo quindi in descrizione trovate tutti i vari link dei social di facebook instagram eccetera siamo arrivati quasi a 11.000 su instagram not bad quindi non brinca tutto ci vediamo domani con il prossimo video ciao 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 ciao